Musica Benvenuti a tutti alla rassegna stampa di oggi 29 marzo, è mercoledì e questa è Fano TV sul canale 17 Trasmette in tutta la regione Marche per leggere i giornali, il carino Corriere, l'edizione di Pesaro Urbino Cominciamo dal santo di oggi, anzi i Santi, visto che ne abbiamo due da festeggiare, Simplicio e Costantino Il sole è sorto dalle 6.54, tramonterà le 19.32 minuti Il cielo oggi è sereno o al più poco nuvoloso, le temperature sono in aumento in particolare nei valori massimi Il vento di brezza tesa da nord Domani, giovedì 30 marzo, cielo sereno poco nuvoloso, con debole attività come le forme pomeridiana sui rilievi più alti Temperature in aumento, venerdì 31, ultimo giorno di questo mese di marzo Cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in livello di diminuzione e valori minimi Probabile aumento dell'instabilità nelle zone interne Però, ecco, tutto relativamente all'entroterra, alla zona montana La pagina di Fano, del resto del Carlino, pista ciclopedonale accanto all'ex ferrovia La regione ci crede, pubblicato il bando e coinvolti i sindaci Al vincitore della gara è richiesto anche di girare un video con un drone Mentre la pagina principale di Pesaro, del resto del Carlino, è per questo nuovo negozio Che ha aperto al posto di un locale, lì, che era storico, che si affaccia all'angolo con Piazza del Popolo Una vetrina di Intimo, il titolo è La città in mutande La vetrina di Tezenis con l'intimo esibito in piazza ha suscitato polemiche Le catene alla conquista del centro storico Il conte Marcucci Pinoli, come spesso fa in questi casi, insomma, provoca con iniziative parallele Allora, le altre pagine, sempre da Pesaro, anzi da Sant'Angelo Invado Liquidi nel torrente Luzzi è stato denunciato Un'indagine della forestale dopo un esposto, derivano dall'azienda agricola Lui però dice colpito in quanto sindaco Dunque la forestale ha denunciato Gian Alberto Luzzi per liquidi che da un campo fertilizzato E sono finiti nel torrente Sant'Anna Il sindaco di Sant'Angelo Invado tiene a precisare che questa vicenda Non ha nulla a che fare con il suo incarico di amministratore Jeffrey Di Bartolomeo Fanese Che in tanti conoscono anche per tutto quello che fa con il San Costanzo Show Comico, beh, ha debuttato al Talent di La Sette Un monologo tutto da ridere, applausi a non finire per il comico Che ha vinto la puntata di Bartolomeo conquista la giuria Altri fanesi in gara Messo ai quarti di finale anche Luca Boscolo Nulla da fare per invece Gian Giacomi Mentre al David Di Donatello Vittoria Marini stupisce con effetti speciali Talenti in crescita, una fanese sul palco, la vedete da sinistra La fanese appunto Vittoria Marini classe 88 con i colleghi e l'attore Stefano Accorsi Alla cerimonia dei David Di Donatello Ok, prende forma invece la spiaggia dei Cani Siamo sempre sul carino di Fano Ruspe in azione a Gimarra, si apre a giugno Sopra luogo del sindaco Massimo Seri Andiamo sul Corriere Adriatico invece La pagina di Fano Decoro urbano trascurato e il comune dà il cattivo esempio Questo è il titolo in apertura L'ex sindaco Giuliani rimprovera gli uffici E dice per primi non applicano il regolamento L'incuria evidente soprattutto per i beni storici Tra selve di bici e cespugli debordanti L'amministrazione verifichi il racket delle lemosine Invece lo chiede del vecchio Sulla scia di quello che è stato fatto a Pesaro Anche del vecchio critica il buonismo della Giunta Che però taglia i fondi al sociale L'altra pagina di Fano Spunta società di New York Mister Santorelli Connection L'ex amministratore di Fano Fortuna Manager della proprietà della fiduciaria lituana Ecco le carte esclusive del registro di Vilnius La tesi dei costi pubblici e dei ricavi privati L'altra pagina Asset Holding Chiude 14 anni di vita aziendale 4 milioni di utili L'ultimo bilancio approvato dalla società Nel futuro l'incorporazione nella consorella Consorella Asset Spa Andiamo sulla pagina di Iesi invece L'auto brucia dopo il fuoristrada Volontaria si salva per miracolo Una ventenne sbanda e finisce nel fossa San Marcello Si stacca il tubo della benzina La panda va in fiamme La ragazza che presta servizio alla Croce Verde E tira di boxe scappa dalla trappola di fuoco Sotto invece giovane incinta ferita In un tamponamento Una nigeriana al sesto mese Due ore prima investita Una donna di 65 anni Siamo sempre sulle pagine di Iesi Del Corriere Adriatico Da Pesaro invece L'evento che coinvolge le ginnaste più brave del mondo Ginnastica all'astronave Torna allo show World Cup Binomio sportivo ormai indissolubile Il presidente Tecchi dice È una garanzia Luca Pieri di Aspes Siamo diventati la capitale mondiale di questa disciplina Un appuntamento per tutti gli amanti Della ginnastica ritmica Al Palace di Pesaro Dal 7 al 9 di aprile prossimi All'Adriatic Arena L'evento qualifica anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Quindi pensate quanto è importante Ladri Vigliacchi Ride al cimitero Siamo a Pesaro Sparisce ormai di tutto Non solo il rame ma anche i fiori Statuine, portafoto E cresce l'indignazione L'Aspes dice le segnalazioni Sì purtroppo sono in aumento Controlliamo Ma non è facile tenere d'occhio 14.000 loculi Abbiamo anche installato le telecamere Chiederemo ai vigili una maggiore presenza In zona mare per i disabili Stagli ad ostacoli Piante, pali, cordoli Uscire dall'auto a Pesaro è un'impresa E la lista civica Siamo Pesaro chiede di verificarne L'accessibilità Il consigliere dall'asta Non è possibile che quando si progettano certi posteggi Non ci si renda conto Della loro inutilità nella pratica Risolta la querelle per Porta Capucina Invece l'altra notizia che troverete sul Corriere di Oggi Trovate la soluzione con i privati per il parcheggio Dietro la stazione ferroviaria Il comune da il Via Libera E ancora dalla pagina di Senigallia Invece pilomati il tilt Il porto è nel sottopasso Non si abbassano al suono delle sirene Fuori uso anche domenica Durante il soccorso all'uomo colto da malore E poi deceduto in ospedale E a centropagine vedete un momento Di una trasmissione televisiva Che si è occupata dello scandalo dei detriti Sulla spiaggia di Velluto a Pasqua Però assicurano La spiaggia sarà pulita Da Marotta A Little Volley Che orgoglio per Mazzanti Ricevuto in comune dal sindaco e dall'assessore Il CT della Nazionale Femminile Che dice quale onore E parliamo chiaramente di pallavolo Impianto di depurazione Progetto approvato Da terre roveresche La dotazione sarà maggiorata Con il collegamento di Orciano Alla rete fognaria di Mondavio Dalla Val Cesano Invece Casa della Droga Irruzione dei militari Giovane prova a lanciarsi dalla finestra Un arresto e quattro denunce Tutto è nato da un controllo stradale Poi il blitz nell'alloggio Tra il fuggi-fuggi generale Durante l'incursione sono state ritrovate Marihuana e dosi di cocaina In giardino Manette per un albanese Clandestino Fermato in flagranza di reato Dispaccio Il parco di via fermi Invece a Mondolfo Per questo parco c'è Questa nuova vita Idea parcheggi rosa Mondolfo un restyling Dopo anni di degrado Il Movimento 5 Stelle In aiuto delle mamme Per chi è incinta Chiaramente ci sono i parcheggi Lo ricordiamo I parcheggi rosa L'ultima pagina Da Urbino Gestione rifiuti Il giorno del voto Forum per i beni comuni Dice no Il piano di investimenti Per la rete integrata Approda in assemblea territoriale Tra le critiche La rassegna stampa Occhio ai giornali Termina qui Noi ci rivediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Cui seguirà subito dopo In diretta Primo cittadino L'appuntamento che come sempre Mette in contatto voi Telespettatori Con il sindaco di Fano Massimo Seri Quindi se avete Se volete fare delle domande Inviare delle segnalazioni Al sindaco di Fano Potete utilizzare Anche il numero di telefono Che avete visto poco fa In sovraimpressione Utilizzando anche Whatsapp Mi raccomando però I messaggi brevi Senza farla troppo lunga Perché altrimenti poi Rimane difficile Per noi anche in diretta Fare la sintesi Grazie e buona giornata a tutti